Stia tranquillo il collega vicepremier perché neanche io l'ho letta ancora, però io ogni mattina quando mi sveglio al massimo penso al fatto che da Roma a Pescara ci vogliano 6 ore per arrivare in treno, oppure che da Palermo a Catania si faccia prima con un volo con scalo a Roma che in macchina o in treno. Non mi sveglio ogni mattina pensando a questo buco Torino-Lione di come collegare gli italiani con i francesi, mi sveglio ogni mattina e magari penso a come collegare meglio gli italiani con gli italiani visti i problemi che abbiamo infrastrutturali. Ci sarà il momento in cui leggeremo quest'analisi costi benefici, però possiamo dire pure che in questo Paese ci sono ben altri problemi che dovrebbero condizionare il dibattito pubblico perché poi dopo un po' gli italiani si stancano pure di sentir parlare sempre della stessa cosa. Come ha fatto sapere adesso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, siamo in totale simmetria comunicativa, che è un modo gentile per dire non l'ha letta lui, non l'ho letto io, poi ce lo leggeremo tutti e due insieme, ma le posizioni sono ben note. Perché alimentare sempre lo stesso dibattito ogni giorno?